Andrea Masello, quanto rammarico c'è? L'Atalanta sul campo avrebbe meritato tutt'altro risultato? Sì, c'è tanto rammarico perché è una partita che ci tenevamo a fare risultato, a partire bene. Purtroppo non ci siamo riusciti, però abbiamo dimostrato sul campo che siamo una squadra tosta, dura da affrontare e questa è la cosa più importante. Purtroppo, ripeto, ci tenevamo a fare punti, non ci siamo riusciti, però con grande serenità ripenseremo da martedì a preparare un'altra partita importante contro il Napoli e cercare piano piano di ottenere qualche punto per dare fiducia a tutto il gruppo, soprattutto a quelli nuovi e di ripartire per un campionato cercando di essere più protagonisti possibili. C'è da dire che non è stata neppure un'Atalanta fortunata perché il palo è ancora lì che trema sulla conclusione di Ilici. Abbiamo avuto tante occasioni, specialmente quella lì con Josip sul palo, se entrava forse cambiava la partita come tante altre palle e gol che abbiamo avuto, non siamo arrivati per un pelo davanti alla porta. Purtroppo capita, è andata così, voltiamo pagina e sappiamo che comunque è un'Atalanta che non molla, sicuramente non mollerà e ci deve fare comunque crescere l'autostima a noi stessi perché dopo prestazioni del genere contro una grande squadra, ad agosto, io penso che ci siano tutti i presupposti per poter far bene. Si gira subito pagina ma il prossimo avversario non è da meno della Roma, insomma, e soprattutto poi Atalanta che giocherà in trasferta al San Paolo contro il Napoli. Sì, sì, è una concorrente che lotta per lo scudetto, andiamo là con massimo rispetto però consapevoli che possiamo dire la nostra. È normale che giocheremo in uno stadio che sarà pieno sicuramente, ci saranno mille difficoltà però io sono convinto che se l'Atalanta preparerà bene la partita, andrà là con le proprie armi, le proprie forze, potrà anche mettere in difficoltà il Napoli, poi vedremo che partita uscirà. Grazie. 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 Grazie.